Un diverbio scoppiato per futili motivi, sfociato in tragedie. Quanto accaduto giovedì notte a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, dove un diverbio si è ben presto trasformato in una lite e da qui addirittura in un omicidio. La vittima è un giovane di 25 anni, Valentino Rizzo, ucciso con una fucilata al petto. Un colpo che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato sparato accidentalmente da Giuseppe Costantino, 54 anni, titolare di un ristorante ubicato in una contrada a Campilongo, che ormai braccato dai carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, si è costituito. A quanto pare, all'origine del diverbio ci sarebbero maldicenze di paese. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del Comando Provinciale e da quelli della Compagnia di Crotone e di Isola Capo Rizzuto, Costantino, già noto alle forze dell'ordine, al culmine del diverbio ha preso un fucile di caccia detenuto illegalmente. a scopo intimidatorio si è avvicinato a Valentino Rizzo, che era al fianco del padre e accidentalmente avrebbe fatto partire un colpo che ha ferito mortalmente il giovane al petto. Il 25enne è morto durante il trasporto in ospedale, mentre Costantino ora si trova in stato di fermo recluso nel carcere di Catanzaro con la pesantissima accusa di omicidio.